ok salendo questo è così facciamo vedere questo questo viene innestato e si accende poi questo è spento viene innestato e si accende poi questo è spento viene innestato e si accende e si accende fino all'ultimo che viene innestato e si accende e si accende e si accende c'è un po troppa luce è ammossa ammossa?